Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Io sono Pixel, mi conoscete anche come Axel, e oggi siamo qui per prepararci alle lezioni che si svolgeranno in università dal lunedì. Sono lezioni online e per utilizzarle bisogna utilizzare Microsoft Team. E quindi ora vi mostrerò come prepararsi alle lezioni installando l'applicazione e avendo i collegamenti per le materie direttamente sul desktop. Ok. Allora, questo qua è il mio desktop. La prima cosa che dobbiamo necessariamente fare è aprire Chrome. Io uso Chrome e voi potete usare il vostro browser. E scrivere Microsoft Team. Questo risultato qua. È il primo risultato che trovate in alto. Lo aprite e dopodiché vi spostate su Scarica Teams. In questo modo scaricheremo l'applicazione che viene fortemente consigliata all'interno della mail che abbiamo tutti quanti ricevuto. A questo punto andiamo su Scarica Teams e partirà il download per Windows. Se voi avete altri sistemi operativi dove dovrebbe partire questi, non so, Mac piuttosto che Android. E sostanzialmente facciamo Scarica Teams e parte subito il download. Pesa 95,3 MB, ci mette relativamente poco, quindi ci vediamo quando ho finito di downloadarlo. Ora non vedete il download perché c'è la mia faccia sopra, ma dettagli. Ok. Il download è pronto. A questo punto possiamo chiudere il nostro browser. Non ci servirà più per ora. Andiamo su la cartella, su Files, in Download, di solito mette il file. Doppio clic e andiamo a installare il programma. A questo punto ci dice, immetti il tuo account scolastico di lavoro e noi dobbiamo mettere la nostra mail universitaria. Quindi ci vediamo una volta che ho fatto il login. Dovete accedere mail universitaria e password universitaria, quello che ho usato anche per accedere alla sezione privata. Ok, accesso fatto. Adesso si sta configurando e vi parte questa schermata qua. Ora, in teoria, vi dovrebbe apparire questa schermata con qua in alto le vostre iniziali dell'università, con il nome e cognome. Ora, da qua, noi possiamo chiudere momentaneamente il programma. Andiamo sulla materia del quale dobbiamo seguire le lezioni. Attualmente abbiamo materie online soltanto di educazione alla comunicazione verbale e sociologia delle organizzazioni. E questa qua è la pagina dell'insegnante. A questo punto andiamo a cercare la nostra materia, che è educazione alla comunicazione verbale in educazione nei servizi per l'infanzia. Abbiamo la voce lezioni online, ok? Ci clicchiamo sopra e si apre questa schermata. A questo punto Chrome, non so se anche gli altri browser lo fanno, dice aprire Microsoft Team. Noi vi facciamo ovviamente aprire Microsoft Team e ci si apre questa schermata. Dobbiamo dare il consenso alla connessione internet e qua dobbiamo essere amministratori oppure mettiamo la password. E l'importante, come ci viene richiesto, è di disattivare sia webcam che microfono per non disturbare la lezione. Ora a questo punto l'accesso è già stato fatto, ma ti c'è qua. Se a voi non vi compare qua in basso c'è scritto accedi ed è l'unico modo per accedere alla lezione. Dovete accedere qua e vi fa come al solito mettere mail e password vostre personali. A questo punto possiamo fare partecipa ora e si aprirà la schermata della lezione. Se ci facciamo chiudi ovviamente torniamo alla schermata qua. Idem dovremmo fare anche per l'altra materia, quindi chiudiamo tutto, abbiamo sociologia delle organizzazioni, apri, apri, pagina del professore, sociologia delle organizzazioni, lezione online. Si apre, apri Microsoft Team e siamo sempre qua. Disattiviamo sia uno che l'altro e partecipa ora oppure accedi con le nostre credenziali. Se possibile vi consiglio di avere direttamente sul desktop i link delle varie materie e dell'app Microsoft Team. Non dovrebbe servire il link dell'app Microsoft Team, ma non si sa mai. Comunque vi si apre anche qua, vi crea direttamente un collegamento quando la installate. Perché il link delle materie? Perché in questo modo facendo un semplice doppio clic vi si apre direttamente la pagina del docente e ci mettete un attimo ad andare su lezioni online. Invece che andare su Google, puoi ricercare il nome, puoi tornare sulla pagina, puoi andare su didattica e via dicendo. Così che lunedì, o comunque nelle lezioni online che seguirete, se avete bisogno di cellere, di farvi in fretta insomma, ci metterete molto meno tempo. Se avete altri dubbi non esitate a contattarmi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!